Giovedì 2 aprile alle 21 esce cose di ficcate mi raccomando tutti i puntati sul canale youtube di paolo nois andate là e iscrivetevi al canale e alla premiere e mi raccomando donate donate perché tutti i ricavi delle donazioni alla premiere verranno devoluti agli ospedali lombardi per l'acquisto di materiale sanitario necessario all'emergenza in corso giovedì 2 aprile alle 21 cose di ficcate